bentornate nel mio canale oggi facciamo un ciambellone per un dolce risveglio caffè e cioccolato questa ciambella si scioglie in bocca se non sei ancora iscritta al mio canale iscriviti è gratis e attiva la campanella ci occorrono 3 uova medie a temperatura ambiente e lavorare con 210 g di zucchero per 5-10 minuti aggiungiamo 180 g di burro fuso freddo e 160 ml di caffè sempre freddo ora aggiungiamo 380 g di farina 00 setacciata e una bustina di lievito per dolci vi metto tutti gli ingredienti nell'info box comunque infine aggiungere 100 g di gocce di cioccolato imburriamo e infariniamo uno stampo da ciambella da 24 26 centimetro di diametro e versiamo il composto andiamo a cuocere in forno preiscaldato a 170 gradi statico per circa 45 minuti una volta cotta lasciamo raffreddare possiamo decorare con zucchero a vilo fatemi sapere se proverete anche questa ricetta buona colazione a tutti voi a tutti Grazie.